Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati sul canale Times Gadget. Oggi continuando il tour delle recensioni delle migliori cover per questi nuovi dispositivi Samsung, quindi per tutta la serie del Galaxy S21. Oggi finalmente, come state sicuramente vedendo, siamo arrivati a recensire e vedere insieme anche la nuova serie di cover della Rhinoshid. Rhinoshid che quest'anno ha presentato per questi S21 solamente questa serie di cover, la sua classica serie soli suite, perché purtroppo per questi top di gamma non abbiamo né i bumper, i mod NX che abbiamo visto anche già sui recenti iPhone 12, ma neanche purtroppo i miei tanto amati Crash Guard. I bumper che ancora oggi di questa azienda per me rimangono fra i pochi, se non gli unici sul mercato, ad avere quel tipo di protezione, ma soprattutto ad offrire quel tipo di design. Purtroppo però quest'anno abbiamo solamente questa soli suite, ma dall'altra parte però devo dire, ho apprezzato che la Rhinoshid mi abbia mandato di questa soli suite altre 12 varianti di questa cover in tante differenti colorazioni, varianti anche a livello di personalizzazione e di disegni. Abbiamo un paio anche di collaborazioni interessanti, fra cui una con l'NBA, abbiamo delle cover dedicate anche qui dietro a livello di grafica, a livello di disegni anche ad Assassin's Creed o a Naruto. Adesso ve le farò vedere oggi man mano una alla volta perché sono davvero molto interessanti. Ma prima di andare a vedere tutte queste qui personalizzate e differenti, partiamo da questa qui che è la classica soli suite in colorazione semplicemente nera. Chiaramente le soli suite, come al solito, hanno la certificazione militare 810G, quindi sono resistenti fino a 3 metri e mezzo di altezza, pari a 11 piedi. La confezione è la classica, quindi possiamo andare a trovare solamente le caratteristiche principali della cover. All'interno, oltre alla cover, troviamo solamente questo fogliettino qui sul retro. Purtroppo non abbiamo lo screen protector posteriore come trovavamo e troviamo ancora oggi sui bumper della Rhinoshid, su Crash Guard. Troviamo solamente questo fogliettino che ci spiega e ci illustra come installare la cover, come installare anche le screen protector, cosa fare e non fare anche con i bumper. Ma visto che noi non ce l'abbiamo questa volta i bumper, lo mettiamo qui da una parte. E andiamo a vedere adesso un po' più da vicino questa soli suite classica. L'unica soli suite di questo lotto che vi farò vedere che potete trovare anche su Amazon, io infatti vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, sia ad Amazon e sia chiaramente allo store ufficiale Rhinoshid, dove poi potete trovare tutte le altre cover che vi farò vedere. Se volete però, se acquistate sul sito Rhinoshid, se volete poter utilizzare il codice sconto Times Gadget per avere un 10% di sconto. Aperta e chiusa questa parentesi, adesso andiamo a vedere realmente più da vicino questa soli suite. Una soli suite classica, molto bella, minimale, elegante, ma soprattutto estremamente leggera, seppur comunque è molto protettiva, ma soprattutto anche abbastanza sottile. Guardate qui, forse da qui si può vedere meglio lo spessore della cover. Una cover che come al solito internamente porta la maglia, una texture anito d'ape, classica non solo della Rhinoshid ormai di tante altre aziende. Abbiamo anche il brand qui da questa parte all'angolino in basso. E poi abbiamo questa texture che non solo copre la parte posteriore, ma copre anche tutti i bordi perimetrali interni, per andare a proteggere ed assorbire meglio gli urti e le cadute. Ecco perché molte di queste cover portano all'interno questo tipo di texture o questo tipo di disegno. Poi oltretutto è una cover che oltre ad essere semplice, minimale ed elegante, mi piace perché è tutta semplicemente nera, è tutto di un unico colore, cosa che, come vi ho detto già molte volte, è abbastanza difficile oggi trovare sul mercato. Infatti vado subito a mettere, in modo tale da non perdere tempo, adesso stavo pensando, andando all'interno, l'abbiamo vista, e come stavo dicendo, è una cover semplice perché non ha tanti ghirigori, non ha tanti loghi, non ha tante scritte che delle volte vanno un po' a imbruttire e anche a inficiare sulla grafica, sul design della cover. Abbiamo solamente il brand dell'azienda Rhinoshid, qui da un lato, sul lato destro, nero su nero, quindi è anche molto bello a vedersi e rimane comunque minimale. Abbiamo il foro per la fotocamera che è stato tagliato quasi a filo, anche qui ottimo lavoro dalla parte dell'azienda. Purtroppo l'unica cosa che devo rimproverare è che questo foro qui dietro non ha uno spessore tale da andare a coprire, diciamo tranquillamente, molto bene la fotocamera posteriore, infatti dovete stare attenti se nel caso la strusciate su una superficie che non è del tutto liscia, potreste rischiare di andare a rovinare o aggraffiare un pochino la fotocamera perché comunque il bordo non è poi così tanto alto. Poi per il resto però devo dire che è una gran bella cover, mi piace perché questa Soli Suite, la versione questa qui di base, riporta una leggera gommatura, uno strato qui dietro, solamente però nella parte posteriore, non nel bumper perimetrale che adesso poi andiamo a vedere come è fatto. Porta comunque una leggera gommatura, uno rivestimento che è davvero molto molto bello al tatto, è quasi soft touch, molto piacevole, non si va a rovinare, non si va a graffiare neanche quando, guardate, passiamo anche con l'unghia, se vedete, se notate qualche graffietto, basta passare la mano e si va a togliere del tutto e ridiventa come nuova, infatti mi è piaciuto molto sotto questo aspetto. Da questa parte abbiamo i classici pulsanti che si spingono estremamente bene, però purtroppo su queste Soli Suite di questi S21 non abbiamo la possibilità di andare a cambiare, intercambiare i pulsanti e quindi a renderli anche più colorati come l'abbiamo visto anche sui precedenti modelli o anche sui recenti iPhone 12, però si spingono decisamente molto bene e soprattutto per quelli un po' fissati come me per le cover si sente perfino il click quando lo andiamo a spingere, cosa che devo dire non è da tutti perché vi offre un tipo di pressione molto più rapida rispetto a tanti alti pulsanti. Alti pulsanti delle volte sono un po' più duri da spingere, delle volte si fa un po' più di fatica, non sono così reattivi, questi invece mi sono piaciuti parecchio. Poi abbiamo chiaramente, essendo certificata 810G con la military grade, abbiamo i bordi riazzati nella parte superiore e nella parte inferiore per andare a proteggere il display. Nella parte invece inferiore abbiamo i classici fori, foro che seppur è una cover che sul retro è abbastanza sottile, sul bordo perimetrale poi non è così sottile, infatti è un po' spessa e il foro non è così tanto ampio, così tanto grande, quindi se avete una penna USB oppure qualche connettore differente, terze parti, che è un po' più grande, un po' più alto, delle volte non riesce ad arrivare fino in fondo. Da questa parte abbiamo i forellini per l'accetto da polso, il bumper diciamo che devo dire che è buono, ma non è come quello degli ultimi iPhone che sono andato a recensire e che vi ho fatto vedere. Per quale motivo? Non lo so bene il motivo, ma è leggermente differente perché qui abbiamo una superficie, un TPU, un materiale leggermente meno poroso, un leggermente più liscio. Non vi dico che fa l'effetto saponetta questa cover, però comunque non si riesce comunque ben a tenere come quelle dell'iPhone o come anche i precedenti bumper, come anche le precedenti cover che vi ho fatto vedere per esempio del Note o anche quelle dell'S20. Quest'anno sembra che su questi S21 il materiale sia stato leggermente un po' più allisciato, leggermente meno poroso e questo qui diciamo che non è che l'ho apprezzato tanto. Poi però nel resto, nel complesso, devo dire, è una gran bella cover che si tiene bene comunque in mano, seppur abbiamo a che fare con un S21 Ultra che ha delle dimensioni abbastanza generose ed è molto bella. Ed è molto bella abbinata in particolar modo questo nero a questi S21 in Phantom Black. Purtroppo questa versione della SolidSuit classica, quindi la base per questi S21 la possiamo trovare, se non vado errato, solamente nera. Poi a parte adesso queste qui vi farò vedere, ma se volete questa qui di base purtroppo c'è solamente in questa colorazione. Ve lo dico perché per altri dispositivi come per gli iPhone o per i precedenti Samsung, cosa non riesco a capire perché quest'anno non è stata fatta, per esempio la potremmo trovare in alte colorazioni. C'era anche in grigio, c'era anche in alluminio, c'era anche in pelle e c'era anche in bianco o in rosa. Purtroppo quest'anno è stata prodotta solamente in questa versione nera. Ma oltre a questa versione semplicemente nera adesso, passiamo dopo questa di base, passiamo adesso a quest'altre un po' più personalizzate, un po' più differenti e particolari di Solid Suite. Qui invece abbiamo quella in carbonio che rimane secondo me ancora abbastanza normale nella media e soprattutto anche abbastanza elegante, un po' come il primo modello. Un effetto carbonio che mi piace, è molto elegante, sta molto bene con l'S21 in Phantom Black, anche se a livello di touch and feel è differente rispetto a quella lì, alla prima, alla Solid Suite classica, perché qui abbiamo un retro leggermente gommato, più piacevole, qui invece leggermente più liscio. È chiaro che non abbiamo l'effetto gommato e risulta anche un pelino un po' più scivolosa questa qui. Qui sul retro non fa tanto grip, vedete come va a scivolare? Questo qui forse l'ho apprezzato un pochino meno, però comunque rimane un'ottima cover, soprattutto per essere una cover non solo che riporta la finitura in carbonio, ma così sottile, così leggera e avere la certificazione 810G non è cosa da tutti, non è cosa facile da trovare. Oltre a questa poi vi ho portato anche un'altra simile, diciamo a questa qui, un'altra variante simile a quella in carbonio, ma non è carbonio, dove abbiamo questo tipo di disegno, questo tipo di texture qui dietro. Guardate, è la prima volta che la vedo, la prima volta anche che la vedo di persona e la provo con mano e devo dire che è bella, perché risulta un po', non vi dico simile al carbonio, però comunque a livello touch and feel è molto simile, però risulta una finitura sempre abbastanza elegante, sempre abbastanza nella norma, la penso anche per un pubblico adulto, un pubblico maschile anche, che non vuole la classica cover in silicone o la classica cover in pelle perché non vuole farla rovinare, allora se non gli piace il carbonio secondo me potrebbe anche optare per questa variante, questa variante che ha questo gioco di cubi disegnati che fungono, fanno questo gioco strano o particolare a livello visivo in 3D. Comunque molto molto interessante. Il costo di queste cover, queste qui non personalizzate, quindi comprese questa in carbonio, questa qui e anche quella chiaramente di base, ha un prezzo di, sul sito ufficiale, di 24,99€. Queste qui sono le uniche che hanno questa fascia di prezzo, poi per il resto, che adesso andiamo a vedere, hanno un prezzo leggermente un po' più elevato. Io comunque, come ho detto prima, come al solito, vi lascio tutti i link sempre qui sotto in descrizione. Ma adesso andiamo a vedere anche quest'altra. Questa ecco è una di quelle cover, l'unica personalizzata, personalizzata da me tramite il sito ufficiale e infatti questi qui sono modelli, anche comprese queste ultime due, che possiamo trovare già da qui e comprese chiaramente anche poi tutto il resto di quelle che vi farò vedere, solamente sul sito ufficiale dell'azienda. Come vi ho detto all'inizio, solamente la prima la possiamo trovare su Amazon. Questo è un modello personalizzato, come vi stavo dicendo e come sicuramente avrete notato, dove il costo si alza un pochino di più. Qui, per tutte quelle personalizzate, avete tre tipi di personalizzazioni sul sito Rhinoshield. Ve l'ho fatto vedere più volte, comunque poi vi lascio il link qui sotto per andare a vedere e provare di persona anche a personalizzare la vostra cover. Qui il prezzo si alza a 34,99€. Una personalizzazione davvero molto interessante perché vi permette poi di personalizzarla con disegni, con scritte. C'è anche la possibilità di personalizzarla con delle foto, caricare dei vostri JPEG o caricare anche dei loghi. Se per esempio volete mettere il logo della vostra azienda o il logo anche, non so, del vostro canale, una qualsiasi cosa, la potete sempre comunque far stampare qui dietro. La cosa interessante di queste qui con le scritte è che potete decidere il colore della scritta, il font, potete spostare le scritte dove volete e soprattutto ne potete aggiungere le scritte quante ne volete, qui su tutto il retro della cover. Quindi una personalizzazione davvero molto interessante perché è l'unica la Rhinoshield ad offrire questo tipo di customizzazione sulle proprie cover. Anche perché è molto difficile trovare un tipo di personalizzazione del genere su cover di questo genere ma soprattutto di questa fascia di prezzo perché anche qui vi ricordo parliamo sempre di una trentina di euro. Oltre a questa poi qui invece il prossimo arriva una delle mie preferite di questo lotto che non ve l'ho mai portata perché è una collaborazione particolare. Qui si tratta di quella che vi ho accennato all'inizio, della collaborazione tra la Rhinoshield e la NBA. Infatti è l'unica ad avere anche una confezione totalmente differente rispetto alle altre. qui abbiamo i vari loghi delle varie leghe dell'NBA. È molto interessante perché poi sul sito possiamo trovare non solo questa qui che ho preso io e dei Chicago Bulls perché io sono un amante dei Chicago Bulls ma possiamo trovare tante diverse squadre, le più famose squadre di NBA. Su quelle più famose e forse anche le più commercializzate se così vogliamo dire, se mi passate il termine, non tanto negli Stati Uniti ma quanto nel resto del mondo possiamo trovare anche più versioni. Per esempio dei Lakers o anche dei Chicago Bulls, mi sembra anche dei New York Knicks, abbiamo due o tre differenti varianti di cover con differenti colorazioni ma anche con differenti disegni. Per esempio questo qui dice Chicago Bulls è una delle tre che c'è disponibile, che era quella che mi piace di più. Se no abbiamo anche quella più grande, simile, ma con il toro tutto lavorato in grande, come questo più piccolo ma è stato fatto in grande. E poi abbiamo anche una divisa a tre fasce, sempre dove una ritrae il logo mi sembra delle NBA, una il toro e un'altra non mi ricordo quale altra cosa. Comunque delle squadre più rinomate, quelle che sono più conosciute al mondo, ne abbiamo anche due o tre varianti. Poi di altre squadre un po' meno conosciute, un po' meno tra virgolette come detto prima commercializzate, ne possiamo trovare una sola variante. Comunque la ritengo molto interessante perché rispetto a tante altre cover personalizzate o personalizzabili, questa mantiene non solo i disegni qui, il rilievo, ma mantiene anche la gommatura che abbiamo sulla solid suite classica, che è molto, molto piacevole. Devo dire, è molto bella da tenere in mano. E poi mi piace perché anche in questo caso la Ransfield è l'unica che vi offre una cover sponsorizzata ufficialmente e quindi anche con questa collaborazione proprio dall'NBA. Infatti qui sopra viene sempre riportato su tutte le cover il loghetto dell'NBA. Ma abbiamo anche quelle solamente dell'NBA, dove non viene riportata nessuna squadra. Abbiamo il logo dell'NBA in grande così qua dietro, in bianco e nero mi sembra, nero su nero o anche colorato. E poi abbiamo una tutta nera semplice con il loghetto dell'NBA solamente qui in basso a destra. Io vi invito a vederle perché sono davvero molto interessanti. Oltre a questa abbiamo anche adesso invece tre cover, ve le faccio vedere insieme, perché sono le tre cover in collaborazione o comunque con dei disegni che riprendono il videogioco Assassin's Creed. Non so quanti di voi lo conoscono, io sono un fan anche di questo videogioco. Ho giocato per tanti anni ad Assassin's Creed sulla PlayStation e quando l'ho vista non ho potuto fare altro che richiederle all'azienda di mandarmi almeno due o tre modelli per farvele vedere perché sono decisamente molto, non solo interessanti ma anche particolari. Allora partiamo subito da questa qui che è quella più particolare. Su queste cover quando c'è una differenzazione proprio di colore, quindi non abbiamo la base di colore nero che abbiamo della Sony Suite e quindi cambia tutta proprio il colore di base della cover, qui il touch and feel è differente perché viene secondo me tutta pellicolata con questa stampa e quindi colorata, la potete anche pellicolare voi o comunque colorare tra virgolette direttamente dalla Sony Suite nella personalizzazione che avete all'inizio, ma se acquistate queste qui che già sono stampate il touch and feel è differente. Infatti sul nero classico della Sony Suite è gommato mentre qui è molto più liscio, si sente, è decisamente differente. Ve lo vado a mettere subito il telefono e guardate qui questa quanto è bella. Questa anche, molto molto particolare e ben differente dalle tante altre cover che troviamo oggi sul mercato. Poi abbiamo anche quest'altro disegno, sempre legato ad Assassin's Creed, ma io sinceramente poi questo qui non mi ricordo il disegno a che personaggio appartiene, però comunque lo trovo interessante, bello soprattutto perché poi qui abbiamo sempre invece a controllo di quella precedente la gommatura della Sony Suite classica. Poi a continuare abbiamo anche quest'altra variante sempre riferito ad Assassin's Creed, vedete qua le due asce e il logo di Assassin's Creed. Questa come quella, come la prima di Assassin's Creed è tutta pellicolata quindi è rivestita, è stata colorata e sentite proprio il touch and feel, differente, però comunque la trovo comunque molto bella. E poi passando da Assassin's Creed passiamo invece a un cartone che forse molti di voi sicuramente conosceranno e parliamo di Naruto e di Naruto mi hanno mandato due tipi di cover perché abbiamo una collaborazione e sono tra virgolette non edizioni limitate, però edizioni che ha solo la Rhinoshield e ci sono solamente una serie di cover, sì limitate ma non per un periodo di tempo, quindi sono collaborazioni abbastanza particolari. Infatti qui abbiamo la collaborazione con il disegnatore di Naruto e lo viene riportato anche da questa parte, vedete, qui abbiamo il copyright Masashi Kishimoto dal 2002 al 2007 perché si tratta di Naruto Shippuden, non so quanti di voi lo conoscono, io spero in una versione di One Piece perché io sono anche un fan di One Piece, non so quanti di voi lo sanno ma lo seguo ormai da tanti anni e qui abbiamo una cover molto più semplice dove abbiamo solamente, viene riportato un'altra volta qui il copyright del disegnatore con chiaramente Shippuden All Right Reserved e il loghetto qui sotto di Naruto, il logo classico di chi segue ormai Naruto sicuramente saprà che cosa intendo e poi invece abbiamo quest'altra versione con le nuvole di Naruto che si rifanno a dei personaggi del cartone. Questa a contrario della prima di Naruto abbiamo il touch and fill che è differente perché questa qui è tutta gommata e quindi è piacevole mentre questa che è stata tutta rivestita con questa texture, con questa trama e con questa grafica è decisamente differente e quindi un pochino più liscia ma la vedete anche in contoluce, guardate questa quanto è opaca, questa invece guardate quanto è lucida quindi non solo la vista ma anche a tatto cambia. Poi passando alla terza ultima che è un'altra collaborazione ancora e qui abbiamo un'altra cover personalizzata, da qui può sembrare uguale la medesima a quella, alla prima invece abbiamo il piccolo loghetto della NASA qui sotto in basso. Anche qui c'è una collaborazione, c'è anche tutta una linea di cover della Run Shield con il logo NASA, abbiamo questa qui che è una delle tante, su questa ce ne sono diverse, non ce ne sono solo 3 o 4 mi sembra arrivano anche a 4, 5 o 6 modelli rivolti con il logo della NASA più che altro, dove abbiamo il logo anche quello tondo, bianco e blu, abbiamo anche mi sembra quello dello shuttle ancora anche per questi S21, ve l'ho fatta vedere se non vado errato per gli S20 dell'anno scorso, quella lì che era una versione davvero molto interessante che era tutta in bianco e nero con il disegno dello shuttle e con il loghetto piccolo della NASA in basso, quindi anche questa qui modello molto interessante, ma come state vedendo non è gommato, abbiamo questo rivestimento che la rende un pochino più liscia e anche un pochino più lucida. E poi passando alla penultima, perché ne sono rimaste solamente due, guardate quante ne sono, abbiamo questa qui che rientra fra le cover semplici, questa qui non ha nessun tipo di collaborazione o per esonorizzazione particolare, ma abbiamo semplicemente una vista della terra da lontano, vedete com'è fatta? Abbiamo qui la terra che si intravede, bella, carina, però ok, deve piacere, non è nulla di particolare. E poi invece come ultima cover abbiamo una cover pensata per gli amanti degli animali, in particolar modo dei bassotti e abbiamo questa qui che la trovo anche molto simpatica, simpatica ma anche differente da tutte le altre perché è l'unica che riesce a unire una grafica colorata, quindi dei disegni colorati come questo qui stampati, ma allo stesso tempo però questa parte qui nera non è pellicolata ma rimane soft touch, quindi leggermente gommata. Simpatica sicuramente come grafica, sicuramente simpatica anche come cover, ne troverete tante altre rivolte agli animali, per chi di voi è interessato a queste cover, io vi lascio come detto il link perché troverete anche le grafiche rivolte agli orsi, ai cervi, alle alci, ci sono alle tigri mi sembra anche, quindi sono diversi tipi di animali, non tutti a colori, alcuni sono stilizzati, alcuni sono in bianco e nero, comunque anche di queste le trovo molto interessanti anche perché se volete qualcosa di differente vi state rendendo conto che è l'unica azienda che propone questi tipi di grafiche e questi tipi di design. Comunque ragazzi per questo è tutto, queste erano tutte le nuove cover della Rhinoshield presentate per questi S21 Ultra quest'anno, non vi dico tutte perché è chiaro sul sito ne troverete a livello di grafiche e di disegni davvero ancora tante tante altre, ce ne sono una miriade, mi raccomando vi ricordo il codice sconto Times Gadget se volete il 10% di sconto e poi se avete qualsiasi altra o volete qualsiasi altra informazione, dettaglio o dubbio o avete ancora qualche domanda da farmi o incertezza, mi raccomando non esitate a chiedermelo qui sotto nei commenti oppure tramite i vari canali social, in primis il gruppo di Instagram o anche il gruppo di Telegram, mi raccomando segnatevi anche il gruppo di Telegram perché lì condivido una serie di wallpaper che utilizzo, che trovo in giro ma vi condivido anche una serie di promozioni su Amazon e i vari codici sconto che mi mandano le aziende per poi non parlare di Instagram dove vi vado a postare e anticipare tutti i prodotti che mi arrivano in anteprima prima che li porto qui sul canale di YouTube e poi chiaramente ragazzi se vi è piaciuto questo video, vi piacciono questi tipi di recensioni di prodotti lasciate un bel like, mi fa sempre molto piacere e mi raccomando per sostenere la community e anche il lavoro che porta avanti mi raccomando iscrivetevi a questo canale YouTube e passate parola che è la cosa più importante. Detto questo noi ci vediamo alla prossima video recensione. Da Adam's Gadget per Giorgio, buona giornata a tutti e grazie ancora.